Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, benvenuto Raffaele Cantone, presidente dell'Autority Anticorruzione e buonasera Ivo Diamanti, sociologo. Entrambi i miei ospiti stasera hanno molte notizie importanti da darci, ma comincio con lei ovviamente, dottor Cantone, citando Transparency International, perché lei adesso sono due anni che è presidente dell'anticorruzione, il 27 marzo sarà la nostra. Il 28 aprile per la verità, il 27 marzo si è avviato la procedura, ho allungato il tutto di un mese, ho preso servizio il 28 aprile, sono 23 mesi, ma è la stessa cosa. Secondo Transparency International in questo periodo l'Italia ha conservato il suo posto di penultimo paese nell'Unione Europea, quindi diciamo che anche nonostante lei si sia molto prodigato, impegnato, non è cambiato niente ancora per l'Italia. Ma fermo restando che io non credo moltissimo a queste classifiche, ma lo dicevo in tempi non sospetti, non è vero che non è cambiato nulla, perché l'Italia era al 69esimo posto, adesso è il 69esimo posto. E' la prima volta, forse nella storia del nostro paese, che l'Italia scala otto posizioni. È un piccolo passo avanti, ma è un piccolo passo avanti che si verifica in un anno in cui ci sono state indagini pesantissime. L'indagine della Procura di Roma, mondo di mezzo, che ha scoperchiato una delle vicende più gravi ed è un fatto noto che in genere tutti i paesi nei quali ci sono indagini sulla corruzione arretrano. Se vede la classifica del Brasile, avrà la riprova. Il Brasile ha perso oltre 20 posizioni con l'indagine Petro Bassi. Quindi insomma è migliorata l'Italia da quando c'è lei sul fronte della corruzione? Quanto meno non è peggiorata, ma io non mi sarei assunto nel merito del miglioramento, non mi assumo il merito del peggioramento. Professor Diamanti, lei ha qualche dato in proposito dall'alto dei suoi osservatori europei, italiani? Ma guardi, dal punto di vista dell'immagine della corruzione, in realtà io so che attualmente secondo gli italiani, secondo circa il 50% degli italiani, sono dati la polis dell'università, è più diffusa rispetto ai tempi di Tangentopoli. Però attenti, il 42% degli italiani pensa che sia diffusa alla stessa maniera, praticamente nessuno pensa che la corruzione sia arretrata rispetto a Tangentopoli. Cioè il rapporto tra politica e di fatto corruzione sembra quasi non cambiato. Quindi, dottor Cantone, lei ha voglia qua ancora a lavorare, ancora per vari anni deve restare presidente dell'autorità di Corruzione, anche perché lei oggi ha presentato anche questo rapporto su Roma che conferma quello che ci dicono i valori di Diamanti. Io credo che i valori di Diamanti siano assolutamente veri, ci mancherebbe altri, io non ho mai pensato che la corruzione fosse diminuita dopo Tangentopoli. Il problema è che per 20 anni molti hanno fatto finta di non vedere che la corruzione non era affatto diminuita e siamo arrivati ad oggi proprio perché per 20 anni tutti hanno fatto finta di non vedere. Siete, mi dice solo rapidamente, prima della pubblicità, qual è il sindaco, qual è stato il sindaco di Roma più distratto sul fronte della lotta alla corruzione? Ma questo non ha elementi, noi abbiamo fatto una ricerca che riguarda quattro anni, dal 2011 al 2014 e sostanzialmente c'è stato un minimo cambiamento. Quindi allora erano sindaci prima Alemanno e poi Marino. C'è stato un minimo cambiamento con Marino, ma minimo perché sono stati spesi meno soldi, ma ci sono state comunque tantissime procedure negoziate, ci sono stati tantissime proroghe, tantissimi affidamenti a cooperative senza particolari attività di gara. C'è una situazione sotto questo profilo sostanzialmente di continuità. Anche le cooperative coinvolte in mafia capitale? Assolutamente sì. Io adesso vado in pubblicità, poi ricominciamo dagli arbitrati per risarcire i risparmiatori che hanno perso i loro soldi con le quattro banche italiane salvate dal governo, perché tra le tante cose di cui si occupa il dottor Cantone c'è anche questa pubblicità. Dottor Cantone, quando comincerà l'arbitrato per risarcire i risparmiatori che hanno perso i loro soldi con queste quattro banche, famose banche salvate dal governo? Quando ci sarà il decreto del governo. E perché non c'è ancora il decreto? Non lo so. Credo che stiano facendo ancora delle valutazioni di tipo tecnico. Noi abbiamo partecipato come autorità anticorruzione insieme a Consob, Banca d'Italia e al Ministero dell'Economia ad una serie di tavoli per scrivere il decreto. Adesso i testi sono all'esame del governo. Dovrebbero accelerare un po' al governo? La legge prevedeva un termine entro il 30 marzo. Mi auguro sia rispettato. Voglio dire, noi interverremo quando ci sarà un provvedimento normativo. Però nel frattempo vi siete fatti un'idea sui criteri per distinguere tra i risparmiatori e gli speculatori. Ci siamo fatti un'idea, nel senso che secondo me i criteri devono essere tendenzialmente il più possibile individuati in modo chiaro, anche per evitare eccessi di aspettative ingiustificate. Dico per esempio, io credo che ha diritto certamente a risarcimento quel soggetto che ha fatto un contratto di obbligazioni e non c'è un contratto, perché è evidente che quella è una situazione di chiara, situazione truffaldina. Eppure ci sono operazioni di questo tipo. Oppure quando c'è un unico investimento nel settore obbligazionario di un soggetto che fino a quel momento ha investito tutte le attività in attività sicure, per esempio in titoli di Stato. Oppure quando ci sono elementi che evidenziano una anomalia di quella tipologia di investimento in relazione al portafoglio del soggetto. Io credo che se un soggetto investe in azioni e in quel portafoglio di azioni ci siano anche obbligazioni, questa dal punto di vista della presunzione è ovviamente un soggetto che ha una capacità di investimento diversa da chi ha sempre investito in titoli di Stato. E bastano i 100 milioni stanziati dal governo per risarcire? Ma questo io credo che sia un tema che dovrà essere affrontato dopo. Credo che i 100 milioni siano un buon punto di partenza, bisognerà capire se nel decreto saranno stabiliti dei limiti massimi a risarcimento, perché qui c'è una norma europea che nella direttiva sulle banche prevede un limite che è quello di 100 mila euro. Quindi bisognerà capire come sarà strutturato il decreto. Ma comunque è un punto di partenza 100 milioni? Credo di sì, ma questa è una valutazione di tipo politico. E in base alle verifiche che state facendo, sa già dire che percentuale di risparmiatori verrà risarcita? Guardi, su questo ci sono stati delle proiezioni che hanno fatto Banca d'Italia e Consob e di cui hanno parlato nell'ambito dei tavoli. Ma sono indicazioni numeriche che onestamente non le so dare indicazioni. Ma diciamo il tema è che i risarcibili oggetto dei decreti saranno coloro che hanno le obbligazioni cosiddette subordinate, quindi obbligazioni meno garantite. E credo che ci sia una tendenziale, una differenza fra i criteri di risarcimento che però porti un range molto elevato di soggetti risarcibili, però con criteri e quantità diverse. Professore Diamanti, gli italiani si fidano ancora delle banche perché lei li sta sondando un po' su tutti i temi, tra l'altro oggi ha presentato questo rapporto sulla sicurezza, l'insicurezza sociale in Italia e in Europa, questo rapporto dell'Osservatorio europeo. Alla nonna edizione con la fondazione Unipolis, Demos e l'Osservatorio di Pavia. Sulle banche è interessante, intanto non si fidano più delle banche, diciamo così, il 15% degli italiani afferma, secondo il rapporto sugli italiani e lo Stato da 20 anni, dicono di fidarsi delle banche. Il 7% in meno rispetto a un paio d'anni, credo che se lo facessimo adesso sarebbe anche peggio, però posso aggiungere un'osservazione. Il problema è tanto più serio, grave, nel rapporto con le banche, perché le crisi a cui assistiamo riguardano non tanto le banche in generale, ma le banche legate al territorio. Veneto, le Marche, la Toscana, che erano legate a dei sistemi, a dei modelli produttivi, che a loro volta erano legati a un'organizzazione della società. Era una reciprocità, erano piccole banche, piccole imprese, rapporto con il piccolo risparmio. Quindi di fatto investono alla radice il nostro modello economico e sociale. Senta, professor Diamanti, siccome il dottor Cantone è un magistrato prestato all'anticorruzione, ma è e resta un magistrato, la magistratura gode ancora di grande fiducia? Guardi, più delle banche e più dei partiti, i partiti praticamente sono prossimi allo zero. Dato che è più recente che ho io sulla magistratura, è il 31% di fiducia, che vuol dire il 20% in meno rispetto a 5 anni fa. E guardate che io seguo l'andamento, perché è assolutamente emblematico della fiducia nella magistratura, dai tempi di Tangentopoli. Allora avevano e godevano di una fiducia totale. Erano, posso dirlo, i giustizieri più che gli uomini di giustizia. Ma praticamente non si fidano di nessuno oggi? L'italiano o di chi si fidano? Del Papa, delle forze dell'ordine, della scuola. Della scuola e dei professori continuano a fidarsi. E dopo si scende il Presidente della Repubblica, la Chiesa, molto meno del Papa. Gli italiani hanno un deficit di fiducia notevole. Però il Papa sovrasta tutto. Sì, ma guardi che 7 italiani su 10 dicono che non si fidano mica tanto neanche di quelli che incontrano, perché potrebbero fregarli. Cioè c'è un deficit di fiducia che è molto elevato e questo è un problema non soltanto per le istituzioni, per le banche, per i magistrati, ma per la nostra società. Questo è un problema anche per il suo lavoro, no, dottor Cantone? Certamente. Io credo che questo sia il principale problema, la mancanza di quel capitale sociale che rende i cittadini anche disponibili a collaborare. Io credo che molto spesso la maggior parte dei cittadini sono persone per beni, ma abbiano mentalmente l'idea che è meglio farsi gli affari propri, è meglio tutto sommato non preoccuparsi e non intrigarsi più di tanto di quello che fanno gli altri, di stare a guardare, fermo restando che poi si è molto critici quando si tratta di giudicare gli altri comportamenti. Cioè critico ma non faccio. Critico ma non faccio che però è appunto una malattia un po' endemica dell'Italia e degli italiani che rende tutto estremamente complicato. Migliorare e cambiare diventa difficile. È molto difficile perché io sono convinto che qualunque cambiamento non può non passare anche per uno scatto morale dei cittadini, perché si chiede sempre a un pezzo del paese, alla classe dirigente, alla politica, ma probabilmente anche i cittadini sono in questo un pezzo dell'intero paese. E lì lei vede che i cittadini sono migliorati, sono rimasti come prima, peggiorati? Io devo dire, non sono in grado di fare valutazioni sociologiche, potrebbe farle più il professor Diamanti. Noi per esempio abbiamo un aumento incredibile di esposti anonimi, per esempio non moltissimi esposti con questa categoria che si chiama Wister Blavere, di chi si deve firmare ma avrebbe diritto alla riservatezza. Cosa mi farebbe pensare? Che tutto sommato dietro l'anonimo è anche più facile nascondersi, però è un po' un meccanismo di un cittadino che utilizza nascondendosi. Quei meccanismi di collaborazione che negli stati anglosassoni funzionano, per esempio il Wister Blavere, da noi fanno ancora fatica a prendere piede. Sicuramente ci sono problemi legislativi, però questo è quello che dice il professor Diamanti, una carenza in generale di fiducia da parte del popolo. E poi c'è forse anche il problema, professor Diamanti, che una seria lotta all'evasione fiscale, alla corruzione, costa un sacco di voti. Quanti voti costa? Ma sa, lì bisogna un po' intendersi, nel senso che l'evasione fiscale è condannata, ma allo stesso tempo l'evasione fiscale rientra nella categoria dell'autodifesa, della legittima difesa nella percezione pubblica. Perché? Perché se io non ho fiducia dello Stato e lo Stato non ha fiducia di me, si instaurano un circuito vizioso all'interno del quale lo Stato cercherà sempre di più metodi. Io ti tasso di più perché so che se puoi evadi. E io evado perché ti considero uno Stato vessatorio e proprio per questo considero l'evasione una sorta di legittima difesa. E' sull'orlo della disperazione, dottor Cantone? Assolutamente no, non ci penso nemmeno. Lei è molto combattivo e tra l'altro viene chiamato in causa praticamente per ogni urgenza, per ogni emergenza. Su Twitter c'è un hashtag di grande successo, ci pensa Cantone. Allora le vorrei far vedere che cosa ha detto di lei recentemente da noi Marco Travalli. Che Cantone sia diventato il Refugium Peccatorum, nel senso che quando non si sa più cosa fare c'è sempre Cantone, è inquietante, nel senso che adesso la crisi della Roma prima o poi verrà risolta da Cantone, la Roma Calcio verrà risolta da Cantone, poi la crisi del Milan, poi gli darà nel Festival di Sanremo. E' diventato un po' una barzelletta questa cosa di candidare Cantone dappertutto. Cantone salva la patria. Indica diciamo una certa carenza di classe dirigente e nello stesso tempo una carenza di figure affidabili e spendibili. Meno male che c'è Cantone che però a un certo punto non andrà più nemmeno a dormire. Dorme ancora Dottor Cantone? Qualche volta sono un po' di fatica ma dormo ancora. Ma ha ragione sostanzialmente Travallio. Secondo me questa cosa è anche un po' esagerata, perché poi in realtà noi abbiamo avuto come autorità anticorruzione, a parte la questione arbitratica, una serie di competenze che sono tipiche delle autorità anticorruzioni, maggiori poteri in materia di appalti, maggiori poteri in materia di trasparenza, ma io non credo affatto di essere diventato un Refugium Peccatorum. Poi ovviamente non mi occuperei mai della Roma, al massimo potrei occuparmi del Napoli che però non ha bisogno in questo momento di cure. A proposito di Napoli, è vero che le hanno chiesto anche di fare il candidato sindaco di Napoli? No, questa volta assolutamente no. No? No. Perché invece qualcuno aveva scritto che, come è anche la sua città, comunque lei di candidarsi in politica? Non ci penso proprio. Non ci pensa nemmeno. Professor Diamanti, in Italia c'è più voglia di giustizieri o di giustizia? In realtà la legalità è una domanda implicita nella società. Dopodiché la ricerca del giustiziere è la scorciatoia. Anche e soprattutto, devo dire, in tempi nei quali i giustizieri hanno successo perché sono mediatici. Il problema in generale è la fiducia, è poco mediale. La sfiducia molto di più. La generosità è poco spendibile sul piano del consenso. Diciamo che la paura e invece la sfiducia funzionano di più. Pensiamo un po' in questi ultimi anni, gli attori politici, che io definisco gli imprenditori politici della paura, che successo hanno avuto. Non solo in Italia, un po' dovunque. Allora sotto questo profilo bisognerebbe cominciare a interrogarsi sull'utilità di un marketing della fiducia e di un marketing della generosità. E non voglio fare il buono di professione. Ma le primarie possono servire per instaurare un rapporto più di fiducia tra politica e cittadini? Perché per questo sono state istituite, no? Le primarie sono state istituite esattamente per questo all'indomani di un problema grosso a cui abbiamo assistito, che è quello del cambiamento del rapporto tra politica e società e della crisi dei partiti di massa. Per cui le primarie hanno anche incontrato, hanno prodotto una grande mobilizzazione sociale. Ecco, però sono entrate un po' in crisi, vero dottor Cantone? Perché lei ha detto che votare alle primarie è come votare alla bocciofila, nel senso che non si può poi fare ricorso alla magistratura ordinaria. Io ho utilizzato un paradosso, cioè nel senso che nel nostro sistema le primarie sono un sistema privatistico che vengono organizzati dai partiti con le regole proprie dei partiti e il paradosso è quello di considerarlo alla pari di una qualunque associazione e ho per paradosso detto alla bocciofila. Sì, però la differenza è che alle primarie si scelgono persone che poi gestiranno il potere, gestiranno le amministrazioni. E infatti sono dell'idea che le primarie sono uno strumento troppo importante per non dover essere regolato. E dovrebbe essere regolato per legge? Secondo me sì, ovviamente senza eccedere, perché a me l'idea che ogni meccanismo sociale debba essere regolato per legge non mi entusiasma. Ma però ci può essere una cornice entro la quale si muove l'autonomia dei partiti. Spesso le primarie in molte realtà diventano persino più importanti rispetto alle elezioni successive che qualcuno ha chiamato molto bene secondarie. Perché, per esempio, le primarie che sono state fatte per il Parlamento. Tu, una volta che hai vinto le primarie, sei stato messo in una posizione e sei stato eletto. Quelle primarie hanno una importanza fondamentale per l'esito successivo. Spesso, in molte realtà, vincere le primarie del sindaco significa quasi sempre essere già stato nominato sindaco. Ma lei ci va, per esempio, a votare alle primarie? No, assolutamente no. Io non sono mai andato a votare alle primarie perché credo che sia inopportuno, per me che facevo il magistrato, andare a votare alle primarie. Adesso vi faccio vedere... Io ho votato alle primarie, anche se non sono iscritto a partiti. E ma lei è sociologo? No, ma sono politologo. Politologo? C'è il segno scienza politica. Ci ho detto, io considero le primarie, per esempio, assolutamente... Parisi le chiama il rito fondativo, il mito fondativo del partito democratico. Io sono assolutamente convinto che sia vero. Anche se poi succedono dei pasticci come per esempio a Napoli, come a Roma... Ma questo è un problema di rapporto tra società e politica. Io devo interrogarmi io stesso sul mio rapporto con la società. Cioè non è che prima dove adesso le primarie sono inquinate, i partiti fossero puri e garantissero la qualità dei candidati. Scusate, in realtà sono state scelte esattamente le primarie come un modello alternativo a partiti che erano considerati ormai talmente legati alla società da esserne dipendenti. E succubi anche nei lati più negativi. E' d'accordo, dottor Cantone? Assolutamente sì. Non mi pare che il tema, per esempio, delle primarie in alcune realtà sia molto diverso, per esempio, da fenomeni di voto di scambio che si verificano anche nelle elezioni vere e proprie. Il tema vero è che però, teoricamente, questi meccanismi sono in qualche modo regolabili o regolati quando si tratta di elezioni vere e proprie, assolutamente non regolati quando si tratta delle primarie. Credo che sia, diciamo, quello che dice il professore, assolutamente vero e sottoscrivibile. Però io al posto di un partito, nel momento in cui le mie primarie sono delegittimate, io stesso mi regolo e io stesso cerco di garantirne… E perché nessuno lo fa poi alla fine? Pagheranno, io sono convinto di questo. Nel momento in cui il mio meccanismo, il mio processo di selezione alternativo a quello tradizionale produce degli effetti non credibili, i riferimenti sono assolutamente non casuali, i cittadini ci penseranno tre volte per utilizzare il loro voto in favore e lo useranno per sanzionare. A quel punto io, partito, per primo avrò il problema di regolarmi. Però non sarebbe il caso, proprio perché le primarie sono uno strumento così importante, di non attendere l'autoregolamentazione, anche perché l'autoregolamentazione, ripeto, io non sono un avanti della legge a tutti i costi, ma l'autoregolamentazione che sanzione porta. Quindi in questo caso lei è a favore di una legge che regolamenti le primarie, non l'autoregolamentazione dei partiti? No, io credo che ci dovrebbe essere una legge cornice che consente l'autonomia dei partiti, ma delle regole minime che dovrebbero essere stabilite, per esempio il rispetto dei risultati delle primarie. Perché credo che sia anche ridicolo che qualcuno partecipi alle primarie e un giorno dopo dice no, ma io questo risultato lo metto in discussione. Quindi Bassolino sbaglia a fare ricorso? Ma io non sono in grado, onestamente non conosco le vicende in modo molto relativo, Bassolino se fa ricorso è giusto che faccia ricorso. Il tema è che in un sistema credibile se io faccio ricorso devo credere che il soggetto a cui faccio ricorso sia credibile nella decisione e quindi una volta che ha deciso dovrei essere sicuro di doverlo rispettare. Invece sta sempre più verificandosi che io faccio le primarie, poi le primarie non mi vanno bene, dico vabbè il risultato non mi piace, ci sono stati brogli. Cosa che in molti casi si è verificata davvero. Oppure il tipo sono andati a votare le persone dell'altro lato. Allora bisognerebbe stabilire delle regole in anticipo, cioè che chi vota per esempio fa parte di un altro. Lo dico per dire, ci sono tante piccole regole che però andrebbero stabilite prima per poter vincolare anche dopo i risultati. Allora vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro perché a proposito di anticorruzione oggi la Lombardia ha deciso di farsi l'anticorruzione in casa. Guardate. Oggi la Lombardia ha varato l'ARAC che sarebbe il clone su scala regionale dell'ANAC, l'autorità nazionale anticorruzione guidata da Cantone. E' la risposta che l'Aggiunta Maroni ha ritenuto di dover dare all'ultimo scandalo che ha squassato il sistema sanitario Lombardo con l'arresto di 21 persone, compreso il Presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale il quale a casa conservava le banconote nel frigorifero reparto surgelati. In vano nei giorni scorsi Cantone aveva fatto presente a Maroni che la legge affida allo Stato e non alle regioni la competenza in materia di prevenzione della corruzione e che l'ANAC ha il compito di vigilare su tutte le pubbliche amministrazioni, comprese quelle locali. D'altra parte non si può dire che la Lombardia sia priva di presidi istituzionali contro il ladrocinio. Tra organi, comitati, commissioni e perfino un sottosegretario con delega della trasparenza sono ben sei i soggetti incaricati di arginare i furti. C'è il Comitato regionale per la trasparenza degli appalti, gestito da un generale della Guardia di Finanza in Congedo. C'è il Comitato dei Controlli, nato nel 2008 per verificare la corretta gestione delle risorse e che non va confuso con l'Agenzia dei Controlli, istituita recentemente nell'ambito della riforma sanitaria regionale ideata proprio dallo statista che teneva le banconote in frigo. C'è il sottosegretario con delega della trasparenza, insediato anch'esso all'indomani di un arresto, quello del vicepresidente della Giunta nonché assessore regionale alla sanità. E infine c'è stata la commissione d'inchiesta sugli appalti nei servizi sanitari, annunciata con squilli di tromba nel maggio 2014 e spentasi pochi mesi dopo senza lasciare traccia. A questo imponente sbarramento di enti inutili, vista la cronaca, oggi si aggiunge l'autorità regionale anticorruzione, varata proprio il giorno in cui, sul Corriere, il professor Michele Ainis ci spiega che per combattere il malaffare serve una legge in meno, non una legge in più. Dottor Cantone, l'Agenzia regionale anticorruzione creata da Maroni serve o serve solo a fare confusione? Ma guardi, io non ho visto il testo definitivo. Noi, il presidente Maroni ci ha mandato un testo, noi abbiamo fatto un parere, ritenendo che ovviamente ci sono delle cose certamente utili, che se viene rafforzato il sistema di prevenzione della corruzione nazionale è una cosa utile. Se si creano meccanismi che rischiano di essere doppioni, si rischia di creare un po' più di confusione, però mi riservo di guardare la legge e poi tenga conto che sarà compito del governo stabilire se impugnare o meno la legge dinanzi alla Corte Costituzionale. Dottor Cantone, lei ha detto un po' di tempo fa che per la mole di lavoro che ha relativamente pochi soldi a disposizione, soprattutto ha una cinquantina di milioni che non può utilizzare, che ci sarebbero invece. No, noi soldi ce li abbiamo, perché noi siamo un'autorità che fra l'altro siamo autofinanziata, noi non graviamo sul bilancio pubblico, perché l'autorità sostanzialmente vive grazie a un contributo che viene versato quando si fanno gli appalti, noi siamo un'autorità che a nostra volta finanziamo le altre autorità, per esempio noi diamo 2 milioni ad un'altra autorità indipendente, 300 mila euro ad un'altra autorità indipendente, solo che per una legge del 2014 noi abbiamo degli obblighi di fare dei risparmi che avevano un senso in quel momento storico, forse adesso hanno meno senso, noi dobbiamo essere messi in condizione di spendere i soldi che abbiamo. Ma e quindi questi 50 milioni quando è che comincerà a spenderli? Quando avremo una norma che ce lo consente, io di questa vicenda ho parlato col governo, ho parlato col Presidente del Consiglio che mi ha assicurato che troveranno una soluzione. E' la prima cosa che farà una volta che le varrà a disposizione? Ma io credo che sia opportuno fare dei concorsi, noi abbiamo una carenza di organico, sarebbe bello anche poter consentire a dei giovani laureati di poter partecipare a dei concorsi, diciamo giovani laureati anche molto motivati, noi abbiamo una quantità enorme di persone che si offre anche gratuitamente a lavorare per noi, sarebbe un bel segnale poter assumere 10-15 ragazzi con un concorso ovviamente fatto dall'anticorruzione. Senta Dottor Cantone, lei ha diffuso appunto oggi il suo rapporto sul disastro di Roma, su appalti e corruzione, il PD quanto è stato connivente con questo sistema? La valutazione sui partiti politici, noi non abbiamo fatto una valutazione sulle questioni corruzione, noi abbiamo fatto la valutazione sul rispetto delle regole degli appalti negli ultimi 4 anni. Ora, non c'è una diretta dipendenza fra mancato rispetto delle regole e corruzione, molti appalti sono stati irregolari anche per incapacità, molti appalti irregolari sono stati tali anche per disorganizzazione o anche perché c'è un andazzo generalizzato. Questo non significa che tutti gli appalti irregolari sono stati sinonimo di corruzione. È chiaro che lì dove c'è un alto livello di irregolarità, lì dove ci sono tante proroghe, lì dove non si fanno appalti pubblici, è più facile che si verifichino fatti di corruzione. Professor Diamanti, come stiamo a fiducia nei partiti e la loro lotta alla corruzione? Questa è un'andagine del mese scorso, sempre l'Atlante politico di Demos, la domanda era appunto quali fossero, quali siano le forze politiche più credibili sul tema del contrasto alla corruzione, 46% degli italiani pensa che non ce ne sia nessuna, il 26% indica Movimento 5 Stelle, 10% il Partito Democratico, 10% la Lega Nord, il 4% Forza Italia. Cioè diciamo che la fiducia nei partiti in generale è bassa, negli specifici partiti resta bassa, però nonostante tutto, mettiamolo in questi termini, l'atteggiamento degli italiani, proprio per questo vira nell'antipolitica, quel che suol dirsi antipolitica, ma questo è un problema, cioè se io per acquisire il mio consenso, il consenso per me a mio favore, io partito come soggetto politico, devo utilizzare la sfiducia negli altri, diventa un meccanismo avalanga. Diventa un meccanismo tremendo, intanto ultima domanda dottor Cantone, perché lei insieme al Ministro del Rio avete messo in moto questo nuovo codice degli appalti, e lei ha parlato di rivoluzione copernicana, perché? Perché il codice degli appalti contiene tantissime interessanti novità, prima di tutto è un codice con leggi più semplici, più chiare, con molti riferimenti anche a normative, diciamo secondarie di cosiddetta soft law, e un codice che prova anche a fare una scommessa per certi versi difficili, per esempio a credere che la pubblica amministrazione sia in grado di fare una serie di attività, anche consentendo una maggiore discrezionalità. Il vecchio codice era dell'idea che le pubbliche amministrazioni non si dovessero muovere, perché erano pericolose, non abbiamo evitato la corruzione, non abbiamo fatto i lavori pubblici, il codice secondo me va nella giusta direzione, però è un pezzo, è utilissimo ma è un pezzo, è un pezzo di una macchina sicuramente più vasta e più complicata. Quindi ancora molto lavoro per lei dottor Cantone, noi la ringraziamo. Io credo purtroppo sì. La ringraziamo, ovviamente buon lavoro, grazie professor Diamanti, buon lavoro anche a lei. Il problema finale resta quello che il senso civico dovrebbe prevalere sul senso cinico, non è ancora così a livello sociale, non solo a livello politico. Vediamo, vediamo cosa succederà. Io intanto sicuramente do la linea a Giovanni Flotti.